Bentornati a tutti su Mindchart, io sono Dista, oggi siamo qui con un nuovo appuntamento, il buon Marco si riposa un po', questa mattina andrò a coprire io per quanto riguarda Bitcoin e qualche notizia macro. Stiamo vedendo che le recenti dichiarazioni della Fed durante la riunione di settembre hanno suscitato reazioni contrastanti nel mercato delle cripto e azionario. Abbiamo visto comunque una leggera flessione di Bitcoin e una ripresa del S&P 500 che è andato ancora in oltemai. Poi andremo a vedere un po' cosa ha fatto Bitcoin, dove ci troviamo e siamo vicini a supporti molto importanti che non dobbiamo perdere assolutamente, anche perché tenete a mente che se perdiamo 60.000 poi ci sono altri supporti intorno a 57.500, 52.500 e poi abbiamo i recenti loss. Teniamo a mente che il verbale della riunione di settembre della Fed ha rivelato che i policymaker hanno opinioni diverse riguardo l'entità dei prossimi tagli di tassi di interesse. Teniamo a mente che molti sono favorevoli a un taglio di tassi di 50 punti base mentre altri sono favorevoli a un taglio di soli 25 punti base ritenendo che l'abbassamento di 50 punti sia troppo troppo eccessivo e questo dibattito ha portato a una diminuzione delle aspettative di un imminente taglio di tassi a novembre con una probabilità di un abbassamento di 25 punti base del 70.4% secondo il FedWatch e chiaramente il prezzo di bitcoin durante queste ore ha subito una forte flessione andandoli in circa verso i 60.000 e qualcosa. Ora ha un po' recuperato ma comunque ha perso ancora supporti importanti e chiaramente se bitcoin dovesse perdere i 60.000 potrebbe esserci comunque una reazione bearish del prezzo e potrebbe portare il prezzo a scendere maggiormente ma quali sono i fattori chiave per un rimbalzo di bitcoin e quali sono i fattori chiave per portare bitcoin ad andare verso gli 80-90.000 dollari infatti potrebbe ancora avere lo slancio però molti ritengono che non è ancora il momento. Il primo punto sono le elezioni americane dove una vittoria repubblicana potrebbe favorire il mercato dalle cripto grazie al sossegno del partito e quindi parliamo comunque di Trump. Il secondo fattore riguarda una situazione economica in particolare l'eventuale abbassamento di tassi da parte della Fed e nuovi stimoli fiscali in Cina questo è molto importante anche l'economia cinese che ha avuto uno sbalzo impressionante in questo mese con azioni che hanno comunque messo anche dal 30 al 60%. E inoltre il terzo punto importante è che nel settore delle cripto non ci devono essere hack o cause legali che potrebbero influenzare la fiducia degli investitori. Questi qua sono i tre punti importanti che devono avvenire per poter portare bitcoin a rompere il suo ultimai. Quindi come vediamo ci sono ancora molte cose che bitcoin deve fare e deve dimostrare infatti se noi andiamo a vedere vedete il nostro pack mind ci aveva dato anche un segnale di take profit un ultimo segnale di pack ce l'aveva dato in zona 52.000 e adesso un po' di take some profit questo vuol dire non è che adesso da qui dampa e scende vuol dire che da questo segnale se uno va a accumulare vi fa fare un po' di take profit chiaramente questo è il senso tutti gli indicatori del tool di pack mind li troverete in descrizione adesso siamo comunque scesi in zona 60.000 e qualcosa supporto i 59.800 che non dobbiamo perdere quindi questo è il supporto principale se rompiamo questa zona prossima zona sono i 57.500 quindi ci potrebbe essere un test di queste zone quello è il prossimo supporto che io sto osservando chiaramente secondo il nostro robot pattern abbiamo supporti anche a 56.000 e poi chiaramente vedete che ci porta anche su una trendline importante a 44.000 chiaramente quello è il target nel caso andiamo a fare una capitolazione di bitcoin i 44.000 non lo vedo probabile in questo momento però teniamolo sempramente su larga scala mai dire mai never say never in questo mercato io non andrò a potenziare bitcoin ovviamente ho già la mia media e le mie posizioni andrò solo a potenziare bitcoin se andiamo a rompere l'ultimo low a 49.000 qualcosa se no rimango con le mie posizioni quindi supporto importante sono i 59.800 abbiamo i 57.600 e poi abbiamo la zona dai 54.000 fino ai 49.000 questa è tutta la zona e anche la zona dove pacmind gli aveva fatto accumulare nei precedenti dip di mercato ieri abbiamo visto che il servizio 500 era salito molto andando nuovamente in oltre mai infatti anche ieri Marco aveva parlato che comunque la discrepanza tra l'azionario che continuava a salire e il mercato delle cripto che continuava a scendere non siamo messi per niente bene vedere uno spike così forte in oltre mai e un bitcoin così debole molti non se lo aspettavano molti pensano ancora che possiamo andare in oltre mai infatti anch'io penso che possiamo andare ancora in oltre mai il problema sarà quando e come bitcoin deve trovare la forza di fuoco per andare a rompere queste benedette resistenze se andiamo a vederlo vedete abbiamo ancora molte molte resistenze e c'è comunque ancora molto molto da dimostrare vedete quante resistenze abbiamo rialzo e bitcoin sappiamo che è famoso per fare movimenti repentini però staremo a vedere se riusciamo a rompere e andare almeno verso gli 80.000 dollari prima di continuare voglio ricordarvi che Zumex exchange che stiamo utilizzando attivamente vi permette ancora di fare trading senza che usi e vi regala fino a 23 usdt in contanti prelevabili molto semplice 3 usdt quando ti iscrivi e ulteriori 20 usdt di bonus su un deposito di 100 usdt in ogni modo troverete tutti i link in descrizione per utilizzare questo bonus e chiaramente questi sono bonus molto interessanti che vanno a ruba ci sono ancora una quarantina di post in ogni modo troverete tutti i link in descrizione se volete provare questo exchange stiamo vedendo che il prezzo di Ethereum è ancora molto molto debole e siamo all'incirca verso 2400 ha perso ancora supporti importanti e molti temono che se bitcoin perde il supporto dei 49.000 potrebbe andare a rompere il supporto dei 2000 dollari e potrebbe farlo io sono dentro Ethereum non mi farebbe molto piacere ho il mio piano se scendiamo e andiamo anche in zona 1700-1800 non andiamo ma se andiamo bisogna avere un piano e sangue freddo e tra le tante cose è uscito un report da Standard Chartered e hanno messo in luce come Ethereum si è superando Solana in varie metriche di valutazione in poche parole questo rapporto fa capire come Solana è sua prova valutata rispetto a Ethereum alcuni punti salienti includono il rapporto tra la capitalizzazione di mercato di Ethereum e il reddito da commissioni di rete è di 121 parliamo di oltre due volte inferiore rispetto a 250 di Solana inoltre Ethereum ospita il 38% degli sviluppatori nel settore blockchain mentre Solana solo il 9% abbiamo anche il tasso di crescita annuale dell'offerta di Solana è del 5.5% mentre il tasso di inflazione di Ethereum è recentemente aumentato attestandosi allo 0.5% ciò implica che il rendimento dello staking di Ethereum è del 2.3% superiore a quello di Solana che è dell'1% quindi vedete che ci sono delle metriche molto più favorevoli per quanto riguarda Ethereum ma se andiamo a vedere il prezzo il prezzo non rispecchia per niente queste metriche come vi dicevo Ethereum non ha molti supporti se andiamo a rompere i 2.300 poi abbiamo i 2.258 2.150 fino a 2.000 qualcosa fino a 2.100 io non vado più a potenziare Ethereum lo andrò solo a potenziare alla rottura di questo supporto non sono consigli finanziari sono operazioni personali questo è il mio play ma non andrò a toccarlo fino a che non scendiamo verso i 2.000 dollari a scendere ho ordini fino a 1.700 dollari nell'eventualità che va almeno li ho e non sto direttamente sui grafici uno deve essere sempre sul prezzo e pronto quindi vedete che Ethereum rimane ancora debole siamo all'interno di questo triangolo sul giorno ci possiamo andare avanti ancora a stringere però a mio avviso non ci sono segnali favorevoli ancora e vedere un Bitcoin così debole se non si riprende Bitcoin velocemente chiaramente non lo faranno le altcoin ci sono poche altcoin che al momento sono andate abbastanza bene e chiaramente stiamo vedendo per esempio altcoin legate all'intelligenza artificiale ma anche il settore meme un video qualche giorno fa se volete andate a vederlo dove ho fatto un po' di analisi per quanto riguarda al coin legate all'intelligenza artificiale ma anche per quanto poi riguarda le meme coin e vi ricordo che nel terzo trimestre 2024 le start up di intelligenza artificiale hanno continuato a ricevere un sostegno significativo rappresentando il 30% del totale dei finanziamenti di Venture Capital e ovviamente le start up legate all'intelligenza artificiale hanno raccolto quasi 12 billion 12 miliardi negli ultimi 90 giorni nonostante un declino nei finanziamenti di Venture Capital e questo fa capire che il settore AI è molto molto forte al momento si riversa per quanto riguarda gli stock AI ma anche per quanto riguarda poi i token legati all'intelligenza artificiale abbiamo visto per esempio TAO TAO che è continuato a salire se andiamo a vederlo Bitensor vedete la forza che sta avendo ma anche molti altri nomi che abbiamo analizzato hanno continuato a salire e chiaramente questo è il trend in voga però molto molto bene perché l'intelligenza artificiale hanno permesso alle persone ai retailers e ai trader ancora di speculare e quindi questa è una cosa molto importante perché se non ci sono queste narrative le crypto al momento sono morte cioè non c'è nessun tipo di volatilità perché chi ha preso Bitcoin ha preso Bitcoin ma non è volatile se andiamo a vedere gli ultimi mesi da marzo è in fase di lateralità compressione e ovviamente questo non porta beneficio nel settore quando siamo in queste zone e vediamo questi impulsi a rialzo tutti parlano di Bitcoin c'è volatilità, interesse le aziende investono in questo lato c'è disinteresse i retailer vedono solo Bitcoin quando fa queste move anzi lo vedono quando già è troppo tardi e in questo momento si fa fatica a posizionarsi su Bitcoin fortuna che c'è le AI le meme che chiaramente permettono di speculare permettono comunque di far parlare ancora un po' il settore perché si Bitcoin è messo bene in una bull flag mensile ancora la bull flag mensile verrà invalidata se andiamo a rompere i 49.000 ma siamo ancora lontani quindi siamo ancora in gioco però troppi mesi fermi e chi è fuori fa fatica a rientrare e chiaramente questo non porta beneficio all'interno del mercato delle cripto lo stesso vale anche per Ethereum Ethereum che è distrutto questo è il mensile sul mensile di Ethereum non siamo messi malissimo perché se vedete abbiamo battuto su questa trendline quindi a mio avviso Ethereum ha ancora un decente potenziale di crescita almeno a testare ancora i 4-5 mila dollari sono quasi convinto ovviamente non si sa come né quando quindi è molto importante andare a investire su quegli asset che siamo confidenti e che andiamo a detenere nel medio e lungo termine anche da qui a 5-10 anni solo in quel modo se abbiamo comunque una sicurezza nell'investimento di quell'asset possiamo avere ottimi risultati mi raccomando date sempre un like fatemi sapere quale investimento avete e cosa ne pensate questa situazione è abbastanza stagnante per quanto riguarda Bitcoin e con ciò vi saluto vi abbraccio e ci vediamo al prossimo cripto appuntamento